Era il giugno di due anni fa quando in uno stabile di piazza Aldomoro tra le palazzine popolari di Scavone spuntarono anche i coltelli un 46enne fine in prognosi riservata all'ospedale Vittorio Emanuele a causa di profonde ferite da taglio. Il suo quadro clinico poi migliorò i PM della procura hanno chiuso le indagini. Sono sei coinvolti comprese due donne e l'uomo rimasto gravemente ferito a sua volta accusato di aver colpito i rivali con una spranga di ferro. Fanno parte di due diversi nuclei familiari che vivono negli alloggi dello IACP e che si sarebbero affrontati proprio all'interno dello stabile. I magistrati della procura dopo aver acquisito gli elementi raccolti dai polizotti del commissariato che avviarono le indagini potrebbero chiederne il rinvio a giudizio. Due giovani già coinvolti nel blitz cavallo di ritorno devono anche rispondere di avere evaso i domiciliari. Si allontanarono dalle loro abitazioni per andare a supporto dei familiari coinvolti nella rissa. Sono tutti difesi dagli avvocati Salvo Macri e Vittorio Giardino. Oltre al reato di rissa viene anche contestato quello delle lesioni causate a seguito dello scontro che si sarebbe verificato proprio all'interno dello stabile con tutti i coinvolti che riuscirono ad impugnare bastoni e anche i coltelli.